E' pronto per accompagnare la prossima formazione che fa parte del Gocceano, è uno dei nove centri e in questo caso è uno di quelli che è in cornicia Sacostera, ai piedi del Monte Rasu e sono presenti questa sera alla grande festa del Redentore gli amici del gruppo folk di Bottida dalla provincia di Sassari. Un applauso forte per Bottida che ci raggiunge su questo palco un'associazione che nasce circa sette anni fa e che veramente avanza nel sentiero delle tradizioni per portare il documento sempre acceso di un'esperienza. Loro tra l'altro ci ricordano che Sant'Antonio è una festa di gennaio antica che loro onorano con l'accensione del suffagarone, così lo chiamano dalle loro parti e mettono in evidenza anche Salia Dura che è l'operazione dell'acconciatura del copricapo femminile che richiede tempi lunghi e mani esperte perché poi il risultato deve essere questo ovale e questo proprio momento d'arte che freggia e veramente dà lustro al vestiario tradizionale che indossate, questa sera anche nelle diverse tipologie che denotano la condizione sociale. Danza e ballo currende, due balli in uno, Andrea Muredda e il gruppo folk di Bottida. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.